Una giornata in ricordo di decimo giugno giovenale all'interno di Juvenaliana, la chermessa organizzata dalla Proloco di Aquino giunta alla sua decima edizione. Juvenaliana quest'anno, oltre al consueto patrocinio di comune, provincia e regione, ha ricevuto anche un altro riconoscimento storico, l'adesione del Presidente della Repubblica. L'iniziativa, suddivisa in due giornate, ha avuto inizio con un convegno dedicato proprio alla satira del poeta Quinate, i cui lavori sono stati introdotti dal professore Ernesto Pellecchia. Un focus affidato a due giovani docenti universitari che, attraverso analisi ed approfondimenti, hanno fatto luce sull'attualità dell'opera di un autore vissuto poco meno di duemila anni fa. Sono sempre attuali intanto perché toccano tematiche come il conflitto tra ricchi e poveri, come il problema della posizione degli intellettuali rispetto al potere, che sono temi effettivamente importanti, decisamente attuali rispetto ai quali è sempre necessaria una riflessione. Da un punto di vista che forse non è un punto di vista, come dire, edulcorato, è un punto di vista forte, deciso, arrabbiato, però forse proprio in questo periodo, nella nostra epoca, forse è un punto di vista arrabbiato e può essere utile, può essere importante. Ogni tanto gridare e farsi sentire può essere utile, soprattutto adesso. La satira, un genere che oggi è appannaggio di comici, specie televisivi, nasce storicamente da un genio letterario come quello di Giovenale, un genere che prende forma dalla realtà e opera nella realtà stessa. Giovenale è uno dei più importanti esponenti di questo genere poetico, è un genere complesso perché si confronta direttamente con la realtà rispetto ad altri generi letterari romani in cui si tendeva più all'astrazione poetica, quindi è un genere radicato nella realtà quotidiana. Possiamo imparare a conoscere forse un po' meglio noi stessi, ma semplicemente per il fatto che appunto, per quello che le dicevo prima, che essendo la satira radicata nella realtà ci permette di conoscere il mondo come era in passato e come è oggi, perché è rimasto sostanzialmente lo stesso rapporto fra chi scrive e chi osserva la realtà. Grazie a tutti.